Dallo Stadio Olimpico di Torino, Toro a Juve, derby numero 222. La finta di Del Piero, splendida per Treseguet che ci prova! Serenio a freddo in calcio d'angolo. Uno contro uno di Palladino. Sfida sulla corsa della Fiore, poi arriva il traversone, Treseguet Del Piero, Treseguet Nedved. Ha cercato Ventola, ancora Chiellini a resistere, Ventola con il tacco per Paolo Zanetti. Va Paolo Zanetti, è pronto a traversone, Zanetti basso, lo tocca le grettaglie, arriva Buffon e mette in calcio d'angolo. Treseguet a largo per Palladino, sta per arrivare alla sovrapposizione di Grieger, lo vedete scorrere sul fondo del tereschermo. Sfrutta il movimento Palladino per il sinistro! Serenio la tiene lì, la fa sembrare facile ma non lo era. Il pallone allarga per Recoba, c'è Comotto della parte, passa Recoba! Buffon, Buffon due volte! Grande occasione per il Torino, era in fuorigioco al momento della seconda parata di Buffon. Buono il pallone per Palladino, cerca il cross sul secondo pallone, Nedved, Miscio! Poi il pallone per Del Piero che non riesce a chiudere. Al Miron, un po' di confusione nella difesa del Torino, fuorigioco Nedved, caccia di punizione. Uno contro uno ancora di Rubin, arriva a traversone, bellissimo, ventola! Buffon! Cerca il pallone filtrato per Del Piero, era buona l'idea? Del Piero contro Comotto, uno contro uno, Del Piero in area di rigore, Del Piero cerca di appoggiare a Nedved, splendido pallone! Alto sopra la traversa, la migliore occasione per la Juve, al 41esimo! Colpo di testa della Fiore, poi il pallone che arriva a tre seghe! Il pallone che arriva a tre seghe! Il pallone che arriva a tre seghe!